Per me è una cosa speciale iniziare da Venaria e arrivare a Torino nella prima fase. Sai che sono legato al Piemonte. Urbano Cairo. Alla presentazione della nuova edizione del Giro d'Italia. È una cosa bellissima per territorio. Darà ritorno economico molto importante. Perché è evento seguito in oltre 200 paesi da circa 800 milioni persone spiega al grattacielo della regione. A Torino e Primo la fase più importante sarà 4 maggio e modo per ricordare Grande Torino in modo festivo. Ma anche con momento momento ricordi quella squadra giovani ragazzi che non ce l'hanno fatta. Il commento del sindaco lorusso. Il sindaco lorusso, il tour e l'evento che più di altri dice. All'Italia. Dalle grandi città ai piccoli villaggi. Lo fa con passione e attenzione alle comunità ha continuato siamo felici. Sarà un organizational s-forming banal. Per la nostra città sarà una opportunità. Ospitare l'arrivo del primo stadio e una vetrina anche un'opportunità molto importante per le ripercussioni.